L'Isola che c'è è una fiera sul commercio delle relazioni solidali che avviene ogni anno nel comune di Villaguardia, in provincia di Como, e che accoglie sempre moltissimi volontari. Quest'anno è stato il primo anno che ho partecipato e personalmente è stata un'esperienza molto positiva. Ho partecipato insieme a più di 200 volontari, tra i quali alcuni avevano già partecipato, mentre per altri era la prima volta come per me. La fiera è stata un'occasione molto bella per venire a conoscenza delle realtà locali che si impegnano affinché la comunità e la gente si rendano conto che esiste un modo alternativo di produrre, consumare e fare scelte più consapevoli per quanto riguarda l'ambiente, il lavoro e le persone. In un mondo in cui la necessità di cambiare è sempre più crescente, perché i metodi oggi utilizzati, oggi usati, non vanno più bene poiché nocivi e datati, è di fondamentale importanza dar voce a eventi come questo per far sì che la società si adopere per un cambiamento vero e proprio. Solo partendo dal territorio e dalle sue piccole realtà possiamo pensare di arrivare ai grandi cambiamenti.